Lettura di Uno Stato d'animo, memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano, di Renato Bordone, pubblicato da Firenze University Press per reti medievali, disponibile in download al link in descrizione. Parte terza, rumori d'ambiente, capitolo primo, il paesaggio sonoro delle città italiane. Un notissimo episodio riferito da Francesco Guicciardini nella sua storia d'Italia racconta come, in occasione della discesa in Italia del re di Francia Carlo VIII nel 1494, l'ambasciatore fiorentino Pierre Capponi, sdegnato per le esose richieste del sovrano, lesive dell'onore della città, abbia risposto con fermezza, poiché si domandano cose si disoneste, voi sonerete le vostre trombe e noi soneremo le nostre campane. L'espressione divenuta poi proverbiale in lingua italiana per indicare la disponibilità a scontrarsi con l'avversario, traeva certo lo spunto dai comportamenti consueti della vita cittadina medievale, dove la quotidianità d'uso di certi oggetti continuava a essere tuttavia legata al loro valore simbolico e alla loro funzione all'interno di un complesso sistema di comunicazione non verbale. Così trombe e campane, evocate dal Capponi, inviavano ai suoi ascoltatori un messaggio molto più eloquente di quanto non possano oggi suscitare in noi le medesime immagini. Trombe e campane anzitutto come segnali di guerra, ma anche come contrapposizione forse fra tracotanza regia e tradizione democratica cittadina, simboleggiata in Italia dalla campana del Parlamento. Sul finire del Medioevo dunque, i codici espressivi continuavano ancora a essere quelli maturati dalla inenterrotta esperienza dei secoli precedenti, quei secoli in cui gli oggetti comuni avevano assunto significati particolari in quanto elementi di un rituale istituzionale, religioso e civile che fosse. Al tempo stesso, tuttavia, tali oggetti restavano comuni nella quotidianità dell'uso, entravano cioè a far parte del paesaggio cittadino nel quale contemporanea erano immersi, in questo caso specifico del paesaggio sonoro. Il concetto di paesaggio sonoro è giunto abbastanza recentemente ad arricchire la tematica della ricerca storica e sta a indicare, in analogia con quello di paesaggio fisico, il complesso di suoni e di rumori che caratterizzano un certo momento storico. A nessuno può sfuggire, ad esempio, la differenza fra il tipo di sonorità che si avverte nel traffico delle nostre attuali città e quello che si doveva percepire prima della diffusione del motore a scoppio. Sarebbe tuttavia semplicistico e inesatto ridurre le differenze alla presenza di quell'unico elemento determinato dalla trasformazione dei mezzi di locomozione. Suoni e rumori della città appaiono infatti strettamente collegati con l'organizzazione sociale della comunità, con i suoi sistemi di produzione, con i suoi strumenti di comunicazione. In altre parole, il paesaggio sonoro appare frutto ed espressioni di ciascuna società e ogni elemento che lo costituisce va dunque interpretato alla luce della mentalità che a tale società sovrintende. All'interno di questo paesaggio esistono poi suoni per così dire volontari che pur appartenendo al complesso sonoro costituiscono un vero e proprio linguaggio, suoni cioè ai quali è attribuito uno specifico significato da tutti comprensibile e che si distinguono dai suoni involontari, prodotti cioè dall'esercizio di un'attività. Se anche i rumori involontari, come si è detto, sono pur sempre frutto di una società e della tecnologia che la caratterizza, è chiaro che i suoni volontari, rappresentando un sistema di comunicazione, costituiscono l'oggetto privilegiato di una ricerca volta a individuare, all'interno di un generico paesaggio sonoro, le intenzionalità di chi li produceva e le conseguenze che provocavano presso la popolazione che li riceveva. In una società come quella delle città medievali italiane, l'uso del linguaggio sonoro appare fin dalle origini come una prerogativa monopolizzata dai detentori del controllo sociale per il forte valore di mobilitazione popolare che viene attribuito al mezzo acustico. Un rintocco di campana, uno squillo di tromba hanno sempre un significato ufficiale in quanto coinvolgono il pubblico e tale monopolio, per tutto il medioevo e oltre, viene gelosamente conservato. Della loro detenzione ufficiale potranno sì impossessarsi le diverse forze politiche, ma solo quando, impadronitesi del potere, costituiranno un governo legittimo, come nel caso del popolo di Firenze, che nel 1250 provvede subito a munirsi di una campana del popolo. Di contro, episodi di turbolenza politica cittadina confermano il tentativo di ricorso al richiamo sonoro anche da parte di dissidenti o insorti. Così ad esempio a Milano nell'undicesimo secolo i fautori della pataria percorrevano la città aizzando la sommossa contro i preti concubinari, strepitando con numerose e grandi campanelle. Queste campanelle, nelle mani dei patarini, sembrano quasi essere una risposta alternativa alle campane ufficiali della chiesa milanese. Svolgono come quella una funzione di richiamo del popolo, ma in più servono per individuare la fazione e per esprimere la protesta contro le istituzioni ecclesiastiche giudicate devianti. Normalmente le campanelle costituiscono infatti uno strumento della religiosità popolare, controllata e autorizzata dalla chiesa ufficiale, come in occasione della festa pisana di San Matteo, quando per tutta la notte risuonano tutte le campanelle, o quella di San Lorenzo, ricordata nel Liber Maiorichinus e riferibili al principio del dodicesimo secolo. Forse anche nel caso milanese sopravvive un significato religioso, ma i tintinnabula dei patarini rappresentano certo una minaccia all'ordine finora costituito. Molto più tardi, e in un ben diverso contesto, durante il tormentato conclave del 1378 alcuni cittadini di Roma si introdussero di forza nel campanile di San Pietro e cominciarono a suonare le campane a martello per convocare il popolo affinché non fosse eletto un papa non italiano. Anche in questo caso si tratta del tentativo di impossessarsi di uno strumento ufficiale in grado di comunicare dei messaggi non autorizzati dai detentori dello strumento. Questi esempi dimostrano l'importanza del controllo dei mezzi di comunicazione sonora e giustificano il monopolio esercitato su essi dall'autorità religiosa e civile. Fin dalle origini, d'altra parte, all'efficacia dello strumento furono demandati dalla Chiesa messaggi di carattere normativo-informativo. È noto infatti che le campane scandivano le ore canoniche, estendendo all'intera comunità ecclesiale quell'orarium di origine monastica che, sacralizzando il trascorrere del tempo, contribuiva però a stabilire anche precisi ritmi della vita quotidiana. Nella ritualizzazione dell'esistenza, il suono delle campane diventa in questo modo il segno maggiormente percepibile da parte del popolo dell'appartenenza sia alla Chiesa sia alla comunità civile, secondo regole ben precise di comportamento. Questo spiega, ad esempio, il disappunto dell'anonimo estensore della Historia Custodum Retinorum nel sottolineare come tra il X e l'XI secolo si fosse insediato in cattedrale un presbiter insius, che non sapeva suonare le campane al mattutino secondo le ore stabilite del giorno, né sapeva fare in chiesa ciò che era dovuto. La precedenza data alla sua ignoranza nel suonare le campane e rispetto all'indelimpienza allo svolgimento dei doveri in ecclesia dimostra l'importanza attribuita alla corretta esecuzione delle ore, indispensabile per non ingenerare confusione nei cittadini. Circa un secolo più tardi, verso il 1068, la ribellione dei chiesi filo-riformatori di Firenze nei confronti del loro vescovo, giudicato simoniaco, si manifesterà con un gesto di vero e proprio sciopero, in grado di danneggiare i fedeli. Secondo la vita di San Gualberto, essi infatti dichiarano, chiudiamo le chiese e non suoniamo le campane e non cantiamo per la gente i salmi e le messe. La chiusura delle chiese cittadine si accompagna così al silenzio delle campane, che anche in questo caso precede l'astensione dalle funzioni sacre. Una città senza campane, o come ad Arezzo con uno scorretto suono delle ore, risulta essere dunque una città in preda al disordine, perché privata non solo del conforto del segno religioso, ma anche del suo sicuro sistema di riferimento temporale nello spazio della giornata e della settimana. L'importanza dell'uso di un linguaggio sonoro nell'inviare messaggi normativi diretti a tutti gli abitanti della città non sfuggì certo a coloro che in Italia si stavano affermando come gruppo dirigente urbano, assumendo in proprio quelle prerogative di natura politica, in precedenza riconosciuta ai vescovi, in quanto referenti anche civili della comunità. Fin dalle origini, dunque, il comune cittadino fece ricorso a uno strumento di uso religioso come la campana, assumendone anche il valore costrittivo di cui era dotato. Con caratteristica sovrapposizione di significati, il suono della campana pote così indicare la voce sia dell'autorità religiosa sia di quella laica, distinte ma accomunate nel loro auto-identificarsi nella chiesa cittadina. A questo punto, assemblea fatta al suono delle campane diventa l'espressione tecnica per indicare la volontà politica della comunità raccolta nel Parlamento Colloquium, legittimata dal segno tradizionale con cui si esprime la chiesa nel comunicare i suoi precetti ai fedeli. A differenza di altri suoni di richiamo, che pure dovevano essere in uso, come quelli delle trombe, forse legati piuttosto alla sfera militare, l'adozione generalizzata presso tutti i comuni della campana lascia chiaramente intendere, al di là del suo significato pratico, l'alto valore simbolico facendo rientrare nella sfera religiosa il riconoscimento alla comunità del diretto all'autogoverno e l'obbligo conseguente della partecipazione al comune da parte di tutti i cittadini. È significativo a questo proposito che nel primo quarto del secolo XII i pisani, nell'interpolare un diploma rilasciato loro da Enrico IV nel 1081, grazie al quale erano loro riconosciute consuetudine tradizionali e concessioni di uso di terre pubbliche, sentano il bisogno di inserire la clausola che l'imperatore non vi invierà nessun marchese in Tuscia senza l'approvazione dei dodici eletti nel colloquio Facto Sonantibus Campanis, espressione del tutto inusitata nella documentazione precomunale dell'XI secolo, ma ormai corrente nelle carte comunali del XII e consacrata poi dagli statuti del 1162. Qui infatti viene detto a proposito dei senatores, cioè dei consiglieri del comune, che saranno convocati in consiglio tramite il suono delle campane. Espressioni analoghe si ritrovano precocemente anche nei brevi della compagna di Genova, cioè l'organismo comunale sorto al principio del XII secolo nella città Ligure. Nel 1143 la normativa che riguarda i consoli prevede infatti che essi siano chiamati al consiglio tramite la campana, mentre nel giuramento che nel 1157 alla compagna devono prestare tutti i cittadini, ciascuno, appena odrà suonare la campana per il Parlamento, dovrà immediatamente recarsi al consesso, a meno che non abbia avuto particolare licenza da parte di quei consoli che avranno fatto suonare il Parlamento. Appare evidente che suonare parlamentum costituisce un preciso segnale emesso dalla campana, distinguibile dunque dalle ore liturgiche e dagli altri suoni di significato religioso, ancorché prodotto probabilmente dalla medesima campana della Chiesa. Solo più tardi infatti viene fatta esplicita menzione di campane laiche. Per una migliore diffusione del suolo le campane sono infatti poste sui campanili o sulle torri attestati fin dall'VIII secolo. Qualsiasi fosse la loro collocazione è chiaro che le campane della città, pur conservando la loro funzione liturgica nel corso del XII secolo, vengono sempre più spesso suonate anche per motivi profani, intensificando con l'avvento dell'autorità comunale un uso a cui forse erano già anche destinate saltuariamente nell'età precedente. Testimonianze poetiche conservate nel Liber Comacinus, risalenti agli anni XX del XII secolo e relative alla guerra fra Como e Milano, attestano con espressione consueta il ricorso alle campane cittadine per segnali bellici, ripresi dalle trombe e corni. Anche all'assedio di Ancona del 1171 i Cives, contrattaccando l'esercito imperiale, operano una sortita dalla città Pulsatis Campanis. Le campane suonano poi in occasione di entrate solenne in segno di giubilo popolare, come a Genova nel 1161 per accogliere la venuta di Papa Alessandro III, con lodi generali e banditori, al suono di tutte le campane della città. Se in questo primo periodo è presumibile che la comunità ricorresse alle campane della Chiesa per mobilitarsi tanto in occasioni belliche quanto per eventi festosi e addirittura per pulsare parlamentum, un segno significativo della laicizzazione della campana è senz'altro fornito dalla decisione da parte del Comune di fornirsi di una campana propria, da usare per le sue specifiche esigenze civili e politiche. Una testimonianza cronistica relativa a Cremona ci informa ad esempio che nel 1190 i consoli di quell'anno fecero costruire la campana grossa della credenza e la campanella che chiamava i militi alla cavalcata. Ed è probabile che a quel torno di tempo risalgano iniziative analoghe presso altre comuni, poiché è proprio nel decennio successivo alla pace di Costanza che le città italiane, terminato il lungo conflitto con il Barbarossa, hanno modo di consolidare le proprie strutture istituzionali ed economiche, configurando meglio la loro organizzazione interna con il ricorso al sistema podestarile. L'informazione cremonese risulta preziosa anche perché la campana grossa e la campanella individuano funzioni legate a due elementi fondanti della vita comunale, il governo e l'esercito. La campanella dei milites, assumendo quelle caratteristiche di segnale bellico già rilevato in precedenza nell'uso delle campane urbane, serve infatti a chiamare raccolta i cavalieri, cioè il nerbo dell'esercito ad equitandum, mentre la campana grossa raccoglie la credenza, ossia il consiglio di governo, continuando così a svolgere la funzione di convocazione e legittimazione dell'assemblea deliberante che era stata delle campane della chiesa pulsate pro-parlamento. Il forte valore simbolico, oltre che pratico, assunto dalla campana della credenza farà sì che da quel momento in poi ogni riferimento alle decisioni prese in forma legittima dal governo comunale in Italia sarà ovunque accompagnato dalla formula convocato al suono della campana fino all'età moderna. La mancanza del rituale può invalidare una decisione o comunque rendere dubbia la validità. Il cornista reggiano, autore dell'opera tradizionalmente attribuita a Alberto Migliolo, nel raccontare come nel 1255 un podestà di reggio venne espulso dal collegio dei giudici che ne elessero un altro senza convocare l'assemblea, non manca ad esempio di rilevare che questo avvenne sì nel consiglio e campana. Proprio prima aveva invece sottolineato come un solenne intervento di pacificazione fra le parti politiche era stato celebrato nel 1253 in piena assemblea radunata nella piazza del comune tramite trombe e campane. Anche i giuristi d'altra parte avevano dato una definizione del concetto di Conzio che teneva conto di tali aspetti formali. Conzio è l'assemblea del popolo che secondo la particolare consuetudine della città o del luogo è stato convocato al suono delle trombe o della campana. Secondo la particolare consuetudine di ciascuna città il consiglio poteva venire ufficialmente convocato al suono della campana o delle trombe. Un altro elemento sonoro, la tromba, si inserisce così nel paesaggio comunale affiancandosi a quello di ascendenza religiosa costituito dalla campana. A differenza di questa la tromba pare a detenere un significato soltanto laico collegandosi con una funzione prevalente di tipo militare a essa conferita fin dall'antichità. Non è escluso che tale caratteristica vada poi connessa con la detenzione del comando in quanto strumento attraverso il quale vengono impartiti gli ordini all'esercito e che quindi abbia finito per simboleggiare l'esercizio dell'autorità civile e militare. Al proposito appare eloquente un documento milanese della metà del XII secolo, sostanzialmente autentico nonostante ci sia pervenuto in trascrizioni tardive. Si tratta di una lettera inviata nel 1155 dai consoli e dal popolo di Milano ai consoli di Tortona in occasione della ricostruzione della città piemontese distrutta dal Barbarossa alla quale avevano appunto partecipato i milanesi. Tale lettera accompagnava l'invio di tre oggetti simbolici, una tromba, un vessillo e un sigillo. Il vessillo era quello milanese su cui erano stati disegnati il sole e la luna a indicare le due città e la subordinazione a Milano di Tortona che prende la sua luce dal sole. Anche il sigillo riproduceva l'immagine delle due città e ne rappresentava l'unità, mentre la tromba di bronzo doveva servire a convocare il popolo e significava l'auspicato incremento del comune. Al di là dell'occasione specifica, gli oggetti inviati illustrano bene l'ideologia comunale dalla potente metropoli lombarda perché tutti e tre mostrano il livello di estrazione concettuale ormai raggiunto dall'organismo politico. Il vessillo rappresenta infatti il segno certo di ascendenza precomunale e religiosa di auto-identificazione della comunità nell'ente comune. Il sigillo attesta il valore pubblico e legittimo delle deliberazioni assunte. La tromba infine indica la partecipazione popolare in quanto strumento destinato a convocare il popolo e si può dunque considerare simbolo al tempo stesso dell'autorità di comando e della prerogativa del popolo cittadino di riunirsi al suo richiamo. Che poi a Milano la tromba ben più della campana abbia assunto tale significato simbolico politico appare ampiamente attestato dai cronisti del tempo del Borba Rossa, forse proprio per lo stato di permanente belligeranza che qui caratterizzava questa fase dell'esistenza comunale. Risulta infatti naturale che durante le continuazioni belliche il populus exercitus dei milanesi venga convocato dal suono delle trombe e non delle campane. Così durante l'assedio di Lodi nel 1160 i milanesi dopo aver convocato tutti all'assemblea al suono delle trombe e averle raccolti presso il carroccio ascoltano le disposizioni dei consoli e poi vanno all'assalto con i vessilli e con grande suono. È come se il comune si fosse trasferito dalla città al campo di battaglia mantenendo tuttavia il medesimo rituale cittadino. L'acconzio convocata dalle trombe in questi casi si tiene però presso il carroccio che sostituisce la piazza e simboleggia in un certo senso la città. Trombe, carroccio e vessilli costituiscono dunque gli elementi formali e concreti per la convocazione dell'acconzio che a sua volta rappresenta il cuore del sistema comunale. Un simbolismo che certo non sfuggì anche ai nemici del comune dal momento che alla caduta di Milano nel 1162 il Barbarossa pretese la consegna del carroccio di quasi 100 altri vessilli e due trombe a simbolo dell'intero comune milanese. Come già nella lettera del 1155 il vessillo bianco crociato e le due trombe costituiscono il signum del comune benevidente ai contemporanei. Oltre che nei cronisti lodigiani Morena da cui sono tratte queste notizie il riferimento alle trombe consegnate in segno di resa all'imperatore infatti compare anche nell'anonimo milanese della narrazio dell'angobardie ob oppressione con espressioni quasi identiche. I cittadini di Milano inviano infatti al Barbarossa cavalieri e fanti con carroccio vessilli e altre insegne militari dei fanti e dei cavalieri e cum tubis. L'imperatore rilascia i fanti, deporta pavia i milites ma si tratti nel carroccio e tutte le insegne e le trombe. Ancora una volta viene sottolineata la presenza delle trombe con il loro sottinteso significato simbolico. L'adozione da parte dei milanesi della tromba come simbolo comunale rimase a lungo nella tradizione di questa città se ancora a distanza di oltre un secolo bonvesin della riva fra i magnali bus mediolani ricordava proprio i trombettieri comunali dedicando loro ben due paragrafi. Benché la città a sua detta contasse infatti più di 200 campane circa 120 campanili e la torre comunale con quattro campane un'attenzione maggiore è invece riservata ai sei trombettieri principali del comune presentati come personaggi onorevoli ed egregi tenuti tanto in onore in città da possedere cavalli e condurre una vita alla maniera dei nobili. Questo secondo l'autore sarebbe proprio dovuto alla potenza del suono emesso un frastuono terribile nei tumulti bellici che non ha pari al mondo che sta a significare la grandezza e la forza della città. Il suono delle trombe udibile da molto lontano nel corso del 200 si trasforma dunque da simbolo della libertà comunale in simbolo della supremazia cittadina sul territorio. È stato scritto recentemente che il campanile impone uno spazio sonoro che corrisponde a una certa concezione della territorialità. Lo stesso spazio sonoro individuato a Milano dalla potenza delle trombe in altre aree dell'Italia comunale è più comunemente realizzato proprio dalle campane in concorrenza fra loro. In questa prospettiva che si afferma nel 200 al compito pratico di richiamo per la popolazione residente in città si affianca così una nuova funzione della campana ora rivolta al territorio circostante, a quell'area cioè di espansione politica che costituisce l'oggetto e il teatro dello scontro per la supremazia fra i comuni confinanti. Si direbbe che l'incremento dello spazio politico imponga così un ampliamento dello spazio sonoro sul quale far sentire la voce del comune e gemone. Fra i testimoni più sensibili agli aspetti della sonorità territoriale, Fra Salimbene de Adam occupa certo una posizione rilevante per la sua attenzione agli aspetti religiosi e politici legati all'uso delle campane. E lui infatti a registrare come fin dal 1237 i francescani avessero fatto costruire ad Assisi una nuova campana grande e bella e sonora. Grazie al suono di questa e di altre cinque simili, tutta la valle era riempita dal concerto delizioso. Ma se in quell'occasione era una debole melodia che quasi come una benedizione celeste si espandeva dalla chiesa francescana su una precisa area territoriale, nel caso dell'ambiziosa costruzione della campana di Parma del 1235, il cronista non manca di rilevare come gli intenti dei cittadini fossero quelli di far udire la voce di Parma fino a Reggio Emilia e a Fidenza. La vivace descrizione del cronista illustra, con larguzia che gli è solita, l'importanza conferita all'evento dai cittadini e il clima di eccitazione che pervade l'intera città nell'esecuzione di tanta impresa. Intanto comincia col narrare che la precedente magna campana comunale si era rotta e che i cittadini si diedero subito a fonderne un'altra. La scarsità di metallo non consentì però di farle leanse, sì che non poteva essere appesa né legata. Allora venne rifusa e questa volta risultò bellissima, ma per qualche altro difetto di fabbricazione non emetteva il bonum sonum. A questo punto i parmensi licenziarono il magister locale e si rivolse a un vero specialista, un maestro pisano che aveva costruito pochi anni prima la campana della cattedrale. Questi da Pisa venne a Parma vestito pomposamente come un gran verone. La notizia sembrerebbe ironica ma al tempo stesso può sottolineare l'importanza conferita dalla società a tali professionisti del suono. Non si dimentica infatti la descrizione fatta da Bonvesin per gli stessi anni a riguardo dei trombettiari milanesi che vivevano more nobilium. Dunque il maestro pisano si installa presto i frati predicatori e fa fondere per la terza volta la campana, mettendoci tutta la sua scienza e usando tutto il metallo necessario che gli viene fornito in abbondanza dal comune. Viene presentato come un vero artista, opera solitarius per non essere molestato da nessuno e lo stampo per la fusione risulta naturalmente bellissimo. Teme tuttavia che il metallo fuso non coli bene nello stampo e infatti nonostante tutto le precauzioni, la campana non risultò buona né dal punto di vista estetico né da quello sonoro. Conclusione moralistica, Dio punì la superbia dei parmensi che volevano una campana che si sentisse fino a reggio e a Fidenza e ne ebbero invece una che a malapena poteva essere udita in città. E pensare che avevano speso una somma esorbitante, cioè mille lire imperiali, per ottenere un risultato così deludente. L'ambizione di controllare un vasto territorio sonoro appare comune a molte città italiane ed ora nel tempo. Questo spiega gli sforzi economici sostenuti dai governi comunali per dotarsi di campane civiche sempre più grandi in malcelata concorrenza anche con quelle della chiesa cattedrale. Ancora nel primo quarto del 300 infatti il pavese Oppicino de Canistris, un osservatore ben attento come vedremo al paesaggio sonoro, ricorda oltre alle innumerevoli campane delle chiese minori di Pavia le enormi campane della cattedrale del comune, il cui suono si poteva sentire a più di 6.000 passi, cioè oltre a 4 km dalla città. Aggiunge poi che altre chiese avevano grandi campane e numerose e che i predicatori e carmelitani ne possedevano di enormi, sicché pare di assistere a una vera gara cittadina sul controllo dello spazio sonoro della città e del suo territorio circostante, combattuta con grande dispendio di mezzi economici. Per il principio del 300 siamo infatti informati che a Firenze il comune dedicò molte risorse al problema delle campane. Già nel 1304 infatti il consiglio aveva effettuato un primo pagamento per mettere una campana sopra il palazzo dei priori. Nel 1307 poi i magistri campanari di Pisa, Vanni e il figlio Bentivenni, dichiaravano di aver ricevuto dagli ufficiali del comune 2.670 libri di metallo che erano avanzate alla fusione della campana e 89 fiorini d'oro per la costruzione di una campana del peso di 16.000 libri, sistemata su una torre ancora in legno edificata nella piazza del palazzo dei priori. Nel luglio del 1308 il consiglio stanziava 500 lire per la torre del popolo e per far mettere una campana grande sopra il palazzo dei priori. In dicembre accresceva lo stanziamento di altre 300 lire alle quali nel marzo del 1309 venivano aggiunte altre 400 lire e in maggio 125 lire erano destinate al pagamento del magister Martino Lombardo pro campana magna. In meno di un anno dunque Firenze aveva sborsato per la sola campana del popolo oltre 1300 lire superando persino la spesa di Parma tanto criticata da Salimbene. L'ambizione di possedere una campana molto pesante tuttavia provava spesso degli inconvenienti. Proprio la campana fiorentina del popolo così costosa e pesante risultava infatti inagibile per l'impiego dello scampanio a distesa e soltanto nel 1322 un sottile maestro di Siena per suo artificio riuscì a sistemarla in modo che per farla funzionare bastassero due uomini invece dei 12 impiegati in precedenza. Per suo servizio naturalmente il bravo artefice si ebbe al comune 300 fiorini d'oro. È stato proposto di interpretare il sottile e bello artificio messo in opera dal maestro senese come l'abbassamento del centro di oscillazione della campana per mezzo di un'asse a sella. Campane di dimensioni minore erano bilicate a un'asse dritta chiamata cicogna e si facevano oscillare per mezzo di una corda legata a una traversa in modo che il dondolio del battaglio creasse le vibrazioni necessarie. Certamente campane del peso superiore ai 5000 kg come quelle fiorentine o quelle realizzate per San Pietro a Roma nel 1353 creavano non pochi problemi di movimentazione. La grande campana messa in grado di suonare a distesa nel 1322 è indicata dal cronista come campana del popolo. All'origine di tale campana il Villani aveva già infatti riferimento in precedenza quando parlando dell'avvento del primo popolo a Firenze nel 1250 aveva subito rilevato che preso il potere feciano fare una campana alla quale tenera il detto capitano in sulla torre del leone insieme con il gonfalone principale del popolo. Il valore politico della campana appare evidente. Finora abbiamo visto come a Cremona nel 1190 erano state fatte due campane una per la credenza e una per i milites cioè per le forze che istituzionalmente costituivano allora il comune. L'affermazione di una forza nuova quella appunto del popolo organizzato in società e avviato alla conquista del potere cittadino si accompagna dunque con l'innalzamento del medesimo segno di autorità la campana. Anche in questo caso il significato appare al tempo stesso simbolico e pratico simbolico in quanto rappresenta la facoltà anche per il popolo di esercitare il comando pratico perché tale facoltà è espressa dal segnale di raccolta delle forze cittadine che nel popolo si identificano. Non è senza significato che i cronisti fiorentini mettano in relazione il popolo e la sua campana con l'uso del carroccio. Il carroccio fiorentino infatti è affidato alla fanteria costituita tutta da elementi popolari e va in battaglia accompagnato dalla campana. A differenza del caso lombardo milanese sul carroccio fiorentino non prendono posto i trombettieri meno diffusi nell'area toscana dove predomina invece il ricorso simbolico alla campana. Si direbbe tuttavia che la campana di guerra fiorentina non si identifichi con quella popolare della Torre del Leone ma che si tratta invece di uno strumento specifico destinato esclusivamente all'uso bellico. Narrano infatti i cronisti che dichiarata la guerra si poneva una campana sull'arco di Santa Maria al Mercato Nuovo che suonava ininterrottamente quasi a sfida del nemico per grandigia di dare campo al nemico o vera bandita l'oste che si apparecchiasse. Tale campana detta Martinella o campana degli asini veniva poi staccata dall'arco e montata su un carrello che seguiva il carroccio e l'esercito sul campo di battaglia. La perdita del carroccio della campana come avvenne nella battaglia di Montaperti rendeva ancora più cocente la sconfitta operata dai nemici esterni. Poteva tuttavia accadere che anche a causa di nemici interni andassero distrutti i simboli del potere raggiunto dal popolo spesso dove e quando più aspro era stato lo scontro fra le parti sociali. Al momento della pacificazione si provvedeva allora con particolare cura a ripristinare insieme con gli edifici anche i segni. Così a Reggio nel 1290 il vicario del Marchese d'Este fece riparare la torre e il palazzo comunale danneggiati dagli incendi provocati dalle lotte civili e anche fece porre su questa torre la campana del popolo insieme con altre due. Bisogna poi rilevare che l'uso politico popolare delle campane rivestiva importanza ancora maggiore in quei comuni il cui potere appariva suddiviso fra le parti o in ogni caso dove la presenza dei magnati continuava a costituire una minaccia costante all'ordine pubblico. In area piemontese ad esempio gli statuti trecenteschi delle società del popolo di Chieri, di Asti e di Torino per la convocazione generale in caso di pericolo prevedono il ricorso alle campane. Il segnale di allarme nel caso di aggressione di un popolare da parte di un magnate è dato infatti dal suono ad stormo udito il quale i soci sospesi a ogni altra attività devono accorrere a radunarsi sotto il gonfalone della società presso la casa del capitano o nella piazza principale e da qui muovere militarmente ad vindictam per punire l'offeso. La stremità o stramita appare essere stata in origine il segnale di allarme per tutto l'esercito comunale come succedeva a Genova nel 1234 quando il podestà uscì in campagna contro le truppe di Albenga dopo aver fatto suonare a storno le campane della chiesa di San Lorenzo. Poi sembra diventare appannaggio della convocazione armata del popolo suonata dalla campana laica o anche da una campana religiosa come accade ancora nella seconda metà del trecento a Torino dove tale compito è affidato alla campana grossa della chiesa di San Dalmazzo. A partire dalla matura età comunale in realtà tutto un sistema di segnali acustici cittadini affidati ora l'una ora all'altra delle numerose campane comunali ed ecclesiastiche viene regolato da una precisa normativa scrupolosamente registrata negli statuti comunali. Se già dalle origini il tocco delle campane suonava come diceva Giovanni Villani, a onore di Dio le ore del dì e della notte, sacralizzando il tempo dei cittadini, nel basso medioevo campane e campanelle scandiscono il ritmo di una vita più profana, il tempo delle istituzioni, il tempo della giustizia, il tempo del lavoro manuale, il tempo della vita privata. Due passi di Opicino De Canistris restituiscono con viva città il paesaggio sonoro di una città come Pavia nella prima metà del Trecento, punteggiato dal richiamo periodico e consecutivo delle numerose campane, ciascuna con la propria voce inconfondibile. Ogni sera, scrive il cronista, subito dopo l'Angelus, suona la campana detta dei bevitori per vietare che si continui a bere nelle taverne o che rimangano ancora porte aperte. Dopo un altro intervallo viene suonata a lungo la squilla che proibisce la circolazione urbana. All'aurora invece sette rintocchi di un'altra campana accordano il permesso di uscire. Poco dopo suona l'Ave Maria mattutina. Un altro passaggio significativo annota come ogni segnale acustico sia distinguibile dalla categoria alla quale è rivolto. Così i sapientes, a cui sono affidati gli incarichi più importanti del comune, sono convocati da un particolare suono della campana. I cento che si occupano degli incarichi meno pesanti sono convocati per un altro suono diverso. Dopo di loro, con altro suono ancora, sono chiamati quelli che si occupano di affari ancor meno impegnative. Infine, quando deve essere convocato tutto il popolo, c'è un suono diverso. Come diversificati sono i rintocchi che annunciano le sentenze, le condanne, la donata generale dell'esercito, quella parziale degli equites, l'aggressione nemica e così via. Anche dagli statuti di Verona del 1327 si apprende che più segnali regolavano l'attività della pubblica amministrazione, forse emessi da campane differenziate. Oltre alla tradizionale campana consigli che convocava i consiglieri e veniva fatta suonare dal podestà su licenza del vicario, esisteva anche una campana gastaldiorum che serviva a riunire i gastaldi comunali. Tutta la procedura giudiziaria era poi regolata dalla campanella che suona per amministrare la giustizia. I giudici infatti erano tenuti a stare al banco da quando suonava per annunciare l'apertura della sessione a quando suonava nuovamente per segnalarne la chiusura. Non potevano dare inizio ai processi prima del terzo rintocco né allontanarsi che dopo il segnale di sospendere le udienze. Fino a quel momento i processati avevano diritto di appellarsi. La campanella diventa in questo modo sinonimo di amministrazione della giustizia, tant'è che per indicare che alcune contravvenzioni in materia di diritto agrario erano giudicate immediatamente e sommariamente, lo statuto di Verona conferma la pronuncia della condanna di giorno feriale o festivo suonata o non suonata la campanella. Nell'amministrazione ordinaria della giustizia, però, si procedeva regolarmente tramite citazione dei convenuti e dei loro procuratori. In un solo caso, tuttavia, l'obbligo della citazione veniva invece a cadere, quando si sentenziava nell'Assemblea Generale del Comune di Verona, siccome far suonare la campana dell'Arengo assumeva il valore di legittima citazione, in quanto tutti i cittadini ne venivano a conoscenza. Anche ad Asti, secondo gli statuti trecenteschi, il Podestà, nel recarsi ad amministrare la giustizia, doveva far suonare le campane solite che sono dette della ragione. In entrambi i casi si presumeva dunque che la campana dell'Arengo, o le campane Razionis, fossero ben udibili e riconosciute in tutta la città. A Verona, tuttavia, oltre ai giudici, anche gli altri ufficiali del Comune dovevano presentarsi a palazzo entro il terzo rintocco del campanello degli ufficiali e rimanervi fino a quando il Podestà non avesse dato ordine di suonare per sospendere i lavori procuri a separanda. A quel suono, a tutti i dipendenti comunali, era fatto obbligo di raggiungere il posto assegnato e tanto più la norma valeva per i custodi delle torri e in particolare per il campanarius del Comune, che sarebbe stato punito se non avesse raggiunto la torre tutte le volte che la campanella piccola fosse stata suonata per tre volte. Sempre gli statuti veronesi ci fermiscono poi un illuminante esempio di regolamentazione dell'orario di lavoro quotidiano attraverso i segnali di un'altra campanella. Si tratta in questo caso di un tintinnabulum specifico, dotato, come spesso accadeva, di un preciso nome, proprio la Marangona. Essa veniva suonata per mezzo di una fune al principio del mattino per una sola volta, ma a lungo. A quel suono tutti i magistri e gli operai di qualsiasi attività dovevano recarsi al loro posto di lavoro e rimanervi fino a quando la campanella non avesse suonato l'ora di pranzo. Terminata la pausa, al medesimo suono tornavano al lavoro per poi interrompersi quando sentivano la campana di merenda a metà pomeriggio. La terza ripresa durava fino all'ultimo segnale suonato dopo i vespri per andare a cena. A differenza delle campane ecclesiastiche, la Marangona scandiva dunque il tempo del lavoro sui ritmi delle abitudini alimentari dei cittadini. Ora di pranzo, ora di merenda, ora di cena. Anche l'orario di alcune attività del terziario era regolamentato dal comune in riferimento al suono delle numerose campane cittadine. A Torino ad esempio era vietato a macellare animali da quando iniziava a suonare la campana di Sant'Andrea che suonava all'aurora fino al suono della terza campana del comune che suonava la sera. A Dastin non si poteva cuocere il sego fino a che non fosse suonata la campana serale e dopo il suono del mattutino della campana di San Secondo della Torre Rossa. A Verona si poteva vendere pesce dal mattino fino al terzo rintocco della campana Via Torum suonata nel primo pomeriggio. Viceversa i tavernieri erano tenuti a tenere aperti gli usci delle rivendite di vino dal terzo rintocco della campanella Via Torum suonata al mattino fino all'ora di compieta. Dopo l'ultima campana della sera, ovunque era fatto di vieto ai tavernieri di somministrare cibo e vino agli avventori. Anzi, chi fosse stato trovato in taverna dopo tale segnale a Torino sarebbe incorso in una sanzione. D'altra parte, in tutte le città, le campane della sera segnalavano il coprifuoco generale. Dopo il terzo squillo montavano infatti la guardia e custodi notturni e nessuno poteva più circolare per le strade senza incorrere in sanzioni. Nel paesaggio sonoro delle città italiane, costituito dal consueto succedersi dei segnali sui quali gli abitanti regolavano la propria esistenza, poteva poi accadere che le campane suonassero in segno di allarme per inaspettati accidenti, come nel caso dell'improvviso divampare di un incendio. A Verona, gli statuti più antichi di questa evenienza prevedevano che si suonasse la campana del comune, a cui suono tutti gli abitanti dovevano correre. Successivamente, un decreto del 1334 aggiungeva al proposito che fosse suonata anche la campana della cappella della Contrada in cui era scoppiato l'incendio. Come abbiamo visto in precedenza, in alcune città, in caso di aggressione di un popolare, la campana del popolo suonava stormo. Ad Asti, dopo che il potere della società del popolo era venuto meno, l'uso finì per cessare, ma nella prima metà del 400 fu reintrodotto un decreto per stabilire che, in caso di delitto, la campana della parrocchia urbana in cui era stato commesso suonasse quattro reintocchi. Le campane ecclesiastiche continuarono naturalmente a svolgere la loro funzione religiosa, accompagnando l'intera esistenza dei cittadini fino ai reintocchi funebri, ma ci furono casi particolarmente gravi in cui anche questo uso venne sospeso. Nara infatti sa l'imbene che in occasione dell'epidemia di peste del 1259, che provocò altissime perdite nell'Italia settentrionale, i morti erano così numerosi che non vennero più suonate le campane per accompagnarli alla sepoltura al fine di non provocare ulteriore sgomento nei malati ancora in vita. Nei secoli che vanno dall'alto al basso medioevo, in conclusione, il paesaggio sonoro delle città italiane, pur conservando un caratteristico aspetto complessivo, subisce delle evoluzioni strutturali connesse con gli sviluppi politico-sociali della comunità urbana e con una maggiore articolazione dell'aumentata popolazione urbana. In altre parole, il generale processo che rende più complessa la vita cittadina incide anche sul suo sistema di rapporti sonori che di essa costituiscono in un certo senso la traccia funzionale. Prima ancora che si diffusa l'uso generalizzato dell'orologio meccanico, di fatto l'impianto sonoro delle campane, pur regolato sulle alterazioni stagionali, scandisce i ritmi dell'attività cittadina, fornendo orari precisi e vincolanti che bene rispondono agli intenti di controllo dell'amministrazione comunale, interamente pervasiva della vita privata degli amministrati. L'originaria sacralità dello strumento, che regola la partecipazione alla vita religiosa con vigore coercitivo, viene tuttavia assunta dal potere civile, suggerendo una sorta di identificazione fra le due sfere. La laicizzazione appare così ai contemporanei più funzionale che non concettuale. La campana sacralizza in un certo senso illegittima il potere di chi ne detiene l'uso. L'aspetto più spregiudicatamente laico del segnale acustico si rientraccia semmai tanto in ambiente ecclesiastico quanto in quello civile, nella concorrenza fra le campane, nella gara per superare i rivali, nell'imporre l'egemonia sonora, riflesso e conseguenza della continua tensione verso l'affermazione egemonica che caratterizza il policentrismo del medioevo comunale italiano. Aspetto evidente anche laddove alla campana si sostituisce la tromba, come nel caso milanese. È questa contesa sonora espressione di un linguaggio non verbale ma di forte pregnanza simbolica, che in definitiva occorre riportare al tramonto del medioevo anche l'espressione di Piercappone, da cui abbiamo preso le mosse, dove nella contrapposizione campane e trombe pare compendiarsi in forma sintetica l'estrema difesa di quel mondo cittadino che nell'immediatezza di un rentocco di campana riassumeva orgogliosamente la propria concezione politica e sociale.